Bene, 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 eccoci ritornati a una nuova puntata sempre qua su B2SquareGaming, il gioco è The Last of Us, questo qui non lo metterò nella rubrica gioca con noi perché di fatto ho già giocato con questi utenti, però ci sono degli utenti, lato emo noni underscore 7 e felice venuti 22. Bene, allora, per chi non l'avesse ancora fatto iscrivetevi, mi raccomando, droppate like a manetta sia su YouTube che su Facebook, il motivo di droppare un like su Facebook è semplicissimo, lo ripeto ogni volta, per avere news in anteprima, per poter partecipare ai, tra virgolette, questionari di YouTube e soprattutto per vedervi video in esclusiva. Oh, ma centro non viene più, io una volta volevo riprovarlo, anche se nessuno sa l'ubicazione delle cassette o roba del genere, però ci sta. Bene ragazzi, come al solito, non mi resta che ricordarvi di andarvi a vedere video di me e di gioco, se vi siete persi B2SquareGaming basta che scriviate B2SquareGaming, tutto attaccato senza il 2, non so quando caricherò il video, se ci saranno già le nuove novità, ma insomma ci sono un sacco di idee e speriamo insomma che attecchiscano, andate a far partire la serie di Infamous, secondo me può meritare e soprattutto, no niente, condividete, spammate tutti i social network con i nostri video, è il nostro unico modo per poter in una certa maniera farci conoscere. Insomma... Orca la miseria, tutte le volte mi... Io metto sempre disattiva l'audio e non c'è come registrare che non riesci più a disattivare, quindi ora io spero di andare subito sotto. Felice Venuti mi chiede se sto registrando, la risposta la vedrai tardi, perché io riesco ragazzi, ripeto, io chatto col sistema di PS Vita, quindi vale a dire che... Oh cazzo, sono già qui. Scappa amico, scappa che ti interrogano. Bravo, bravo. Allora, come vedete gli ho cambiato, ripeto, il cappellino, così sono più trendy e più safari, mi piace così. Oh, allora, andiamo di qua. Mi serve un minuto. Ma che è un minuto? Facciamo prima. Allora, quel... Alla fine mi sono dato una regola, la regola è... Ci teniamo dello scotch e una forbice, perché tutte le volte mi ritrovo senza bastone. Cioè, quando vedo che si sta rompendo, zack! Lo aggiusto, in maniera molto audace. Quindi in questo caso abbiamo ricevuto una forbice in più, quindi direi di fare così. Allora, chissà dove sono queste cacchie umane. Muoviamoci insieme agli altri, come vedete lì il secondo giocatore è l'utente, sperando che... Iscrivetevi, mi raccomando, siete la forza del canale. Per poter andare avanti abbiamo bisogno di voi, insomma. Quindi non deludeteci e andiamo avanti così. Abbiamo raggiunto un buon livello ad agosto, quindi continuiamo. Ci saranno nuovi giochi, non temete. Ho visto qualcosa muoversi lì, è una mia vaga impressione. Eh, non so cosa costruirmi. Cavoli, il nastro adesivo a volte in alcune partite sembra tipo la risorsa più rara. Sembra oro, diamante, tutto. Chi più ne ha più ne metta, perché di fatto... Accidenti. Ma quanti siamo? Ok, 4.4. Io non ho... Parte all'inizio e non li ho ancora più... Non li ho più rivisti. Io mi ricordo ancora, agli inizi c'era qualcuno che si piazzava sulla diga e sniperava di brutto. Quindi, allora, se l'ho rigenerato lì, sicuramente non sono da quella parte i nemici. Quindi dovete anche ogni tanto fare degli accrocchi per migliorare la tempistica. Poi io continuo a dare suggerimenti, però c'è gente che gioca con me. Oh mio Dio. Qualcuno mi copra, mentre mi sistemo. Mi è andato a finire quello lì. Porca vacca. Merda, ma è pieno. Andiamo via. Corri! Corri via, corri. Olè. E fu così che perdemmo. Ma dove sono questi stronzi maledetti? No, no, sta venendo. Vedete, l'ho sbattato. Olè, però se mi uccidi così sei proprio un pirla, fatelo dire. Mogio! Ne sa il cavolo. Allora, vediamo un po'. Ok. Piano piano. Non si può fare niente. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Dai, 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 dai. E dove mi generano? Qua. Accidenti, porca la misera. Cioè, vi dico, le cassette sono una cosa inaudita. Ci mettono una vita a ricaricarsi, poi quando uno comincia ad essere in vantaggio, danno la risorsa di cui ne potrebbe fregare di meno e la danno in quantità industriale. No, porca la miseria. E questo è da dove mi ha spuntato. Minchia ci hanno stuprato questo giro. Sono quattro interrogazioni garantite. Interrogazioni. Tutte le volte mi sbaglio, sono interrogatori. Sono quattro interrogatori garantiti. Vabbè, ma allora se è P. Abbiamo già perso, ragazzi. Bene, bene, bene. Adesso voglio vedere cosa mi dà. Ora, ho bisogno di scotch. Cosa mi dai? Uno scotch. Grazie. Troppo gentile. Porca la misera, sono già qui. Ragazzi, dobbiamo però... Dobbiamo... Uno in meno! No, ma ha preso lui, maledetto! No! Pazzola. Maledetti. Uno in meno, maledetto! Interrogali. Bravo. Otto, sette... Oh, ma dai... Oh, ma da quando ci metti dieci secondi? Tre, due, uno... Dai, dai! Eh, caramba, che sorpresa! Figa, sono già qui. Mi hanno colpito! Dai! Ma porca la miseria! Ma quanti ce le... Siamo circondati! Minchia, una partita così brutta non l'ho mai vista. Vai di là! Vai a fare protezione! Mannaggia! Non vedi che stanno aprendo la cassa? Bersaglio a te! La voglio a te! Corca la miseria! Vabbè, insomma, è stata una partita. Abbiamo perso, abbiamo fatto pena, ma gli altri li hanno veramente organizzati. Grandi, bravi, bravi. Ciao, alla prossima! Ja, gute Nacht! Wieder wir zwei!